i libri per il presidente davvero che lettura abbiamo posso chiederle anarchia o democrazia poi 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 che cosa abbiamo di tutto abbiamo come siamo i suoi fratelli e abbiamo deciso che lei è la sorella di fuori siete contenti di questa notizia lui dice che si è pentito cioè ha fatto no come non è vero che si è pentito non si è pentito vabbè ha fatto una riflessione ha fatto una riflessione su quanto è avvenuto vabbè ci dica come sta